Ho ricevuto la bolletta della luce, prima era bimestrale, adesso è mensile e pago 180 euro. Quando era di due mesi non ho mai raggiunto quella cifra lì. Vivo da sola, quindi poi alla sera stacco anche le prese dalla lavatrice, dalla televisore per cercare per l'appunto di risparmiare. Anche sul carrello della spesa degli alimenti sono costretta a risparmiare perché io sono un pensionato di quelli poveri, perché prendo al netto 1.060 euro al mese. Francesca Fontanili è una pensionata piacentina e insieme a tanti altri suoi concittadini non si è persa nemmeno un secondo del convegno organizzato ieri da CGL Piacenza, SPI e Federconsumatori. Come capire, leggere e interpretare le voci di spesa contenute nelle fatture di gas, luce e acqua? Perché il costo totale non è legato al solo consumo? Che influenzano le altre voci di spesa? Come influisce l'imposizione fiscale in questi servizi? A queste domande hanno cercato di fornire risposta gli esperti che sono intervenuti alla Camera del Lavoro. Oggi la situazione è in deciso peggioramento. Noi stiamo vedendo che le proposte contrattuali al mercato libero che stanno arrivando agli utenti portano degli aumenti di 3, 4, 5, 7 volte gli importi che attualmente stanno pagando. Per cui noi chiediamo che venga applicato, altri paesi ci stanno ragionando, un tetto massimo al prezzo dell'energia elettrica e il prezzo del gas. Altrimenti le attuali dinamiche porteranno con l'inizio dell'anno nuovo a delle fatturazioni che le famiglie, ma anche le imprese, non saranno in grado di far fronte. Nel frattempo quali accorgimenti possono adottare i consumatori? Quello che noi consigliamo è di farsi supportare nella verifica delle opzioni che ci sono dalla Feder Consumatori. Esiste un sito che è il portale delleofferte.it che è gestito dall'autorità RERA dove è possibile confrontare le offerte che ci sono, verificare la loro convenienza rispetto al mercato tutelato e fare i confronti tra le diverse offerte mercato libero. Però poi dopo va fatto un lavoro di continua verifica perché uno stipula un nuovo contratto oggi che può essere vantaggioso. Il rischio è tra un certo numero di mesi di vedersi un'offerta che viene magari raddoppiata, triplicata o quadruplicata.